sono contento perché la tenda si vede qualcosa che si piena quasi piena anche io voglio raccontare quello che il signore ha fatto nella mia vita nella mia vita non conoscevo dio nella mia vita c'era un vuoto dall'età di 14 anni da 13 anni e mezzo mi facevo le delle domande da solo quando uno muore dove che va però non avevo nessuna risposta con la mia famiglia era un ragazzo un giovane che nemmeno con la mia figlia mia famiglia mia madre mio padre non era non andava d'accordo ero diventato testardo la cosa che mi interessava era l'occulto ero attirato alle cose occulte e mi facevo tante domande in me stesso e ho cominciato normalmente io stesso a cercare questo il corso occulto per non dicevo nulla mia alla mia famiglia e piano piano normalmente a 14 anni ho cominciato a fare le delle mie delle mie cose cercando normalmente qualcosa di negativo e ho cominciato a trovare un gruppo che facevano tutte queste cose cose spiristiche e io in quello ero il più giovane della della di questo gruppo e cominciai a dire sì mi interessa e cominciai a frequentare insieme a loro fratelle e sorelle sono stato fino all'età di 20 anni però una cosa bella che ho trovato che il signore non mi ha abbandonato perché insieme a questo quando ero ero era un uomo più ero piccolo c'era un fratello una famiglia cristiana e questo fra questo fratello che lui mi ha parlato del signore erano amici stretti però le cose le strade poi si sono separate nella mia vita molto sofferto da giovane ho subito tante 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 cose ho cominciato a praticare l'occulto la magia lo spiritismo il paranormale e più stavo e più le scalini cominciavo a scendere e cominciavo a comprarmi dei libri di come si chiama di meditazione talismani e facevo non che le facevo io stavo come in mezzo a questo gruppo e stavano ma mentre facevano per le messe nere e io stavo presente era qualcosa che mi attirava però posso dire gesù è grande è grande io l'ho sperimentato ho cominciato a toccare anche la droga ho cominciato a fumare lo spinello a umbriacarmi sono stato in contatto con gli omosessuali facevo il manager con gli omosessuali una vita depravata proprio come un maiale e quando sono andato non mi ammette al militare a udine pensavo che non mi ammette tutto questo non ci doveva essere e fino là ho trovato anche qualcosa di forte la mia vita c'era un vuoto totale qualcosa di profondo che non potevo uscire e c'era ho conosciuto un amico militare che faceva il becchino sai quelle che puliscono i morti che cosa penso che si chiamano il becchino e lui normalmente parlava con i morti e mi ero fatto amico con lui e insieme a me c'erano altre persone fratelle e sorelle però ringrazio il signore che quando ho finito il militare perché ho sofferto nel militare mi volevo suicidare io sono stato sei mesi senza andare a casa dal militare quando ho cominciato fino alla metà del militare non sono andato a casa ero diventato proprio ribelle mi volevano mandare alla prigione militare avevo fatto era diventato pazzo buttavo tutti i piatti a terra avevo buttato un carrello pieno pieno di piatti mi hanno messo a dormire dentro una tavola 15 giorni però ti posso dire che gesù cambia va bene gesù cambia perché questo lo posso dire perché ci sono fatto qualcosa nella mia vita alleluia e una volta mi sono trovato al lago di garda verso san vitro il tagliamento sopra mi hanno portato sopra una montagna 15 giorni di guardia e in quel momento sono sceso ho chiamato un amico e mi ha detto guarda voglio che tu mi rompi le mani allora col sedere del fucile mi sono messo le mani sopra una pietra e ho detto a lui guarda non ce la faccio più spezzami le mani ma tu sei pazzo allora lui col sedere mi volteva sopra sopra le sopra le mani però io dicevo guarda se non lo fai tu io prendo il fucile mi sparo la mia vita era era dura non avevo un affetto di non è che i miei genitori me ne davano ma so ero io che ero isolato completamente finito il militare questo giuseppe fratello che parlava del signore perché lui continuava a parlare del signore mi diceva gesù ti ama e io dicevo giuseppe ascolta siamo amici siamo amici però non mi dire a me che gesù mi ama non credo in gesù non esiste gesù dov'è questo gesù vedi come sono ridotto vedi la mia famiglia come piange per me vedi mio padre com'è quello fratello sorella avevo mia mamma un cofanetto pieno di oro una scatola e sono andato a casa ho preso che non c'era nessuno preso questo cofanetto e all'epoca l'ho venduto per cinquantamila lire che c'era la lire e ho cominciato a drogarmi mio padre quando entrato dentro ha visto che il cofanetto non c'era più io voglio vedere quando un padre che ose e come comincia a sparire che guerra dentro la casa però il signore è venuto in me e questo giuseppe veniva mi diceva gesù ti ama per me era un martello plomatico della mia mente e io dicevo no non mi interessa dove sta gesù io la prima volta seconda volta terza volta però posso dire una cosa che quando lui è venuto a me gesù ti ama io l'ho preso da qua dice giuseppe tu dici che gesù mi ama fratello ha parlato dell'inferno l'ho preso da qua ne ho detto veramente che tu mi dici che gesù ti ama allora questa notte io voglio vedere l'inferno io questa notte voglio toccare all'inferno fratello e sorelle l'inferno esiste esiste e in quella notte me ne vado a casa mi ero dimenticato gli ho detto ma tu sei pazzo sei fanatico sei religioso scusami che sei un amico ma per me sei fanatico e me ne sono andando ma quando entra a casa quando entra a casa e il bello viene qua mi metto nel letto me ne vado in coma un sonno profondo e in quel momento mi sono trovato dentro al fuoco un fuoco non so come esprimere l'inferno come non lo posso disegnare perché non lo so però mi sono trovato dentro questa lava tutto il col tutto il mio corpo dentro a questo fuoco e il momento era tutto scuro pieno di fumo e io gridavo non mi potevo svegliare era più forte di me vedevo anime che gridavano femmine maschi e una voce mi disse il fratello ha detto la scadenza e il signore mi ha messo una scadenza se oggi non ti converti la tua vita sarà tolta ci avevo 12 ore davanti a me non 24 12 ore quando mi sono alzato mi ho messo i pantaloni o con non nemmeno ho diventato pazzo sono andato da a quel fratello alleluia il campanello giuseppe voglio dare la mia vita a gesù cosa ho visto l'inferno fratello e sorelle corre abbassare gesù è reale alleluia gesù è reale e questa sera voglio leggere quello che ha visto cornelio nel capitolo 8 di matteo voglio essere breve al versetto 5 dice quando gesù entrò in capernaum un centurione bene da lui e lo pregando e dicendo signore il mio servo giace a casa un paralitico e soffre moltissimo gesù li disse lo verrò e lo guarirò ma il centurione rispose signore io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito una parola una parola gesù ha fatto una sola parola nella mia vita se oggi non ti converti la tua vita sarà tolta allora il suo fratello giuseppe mi ha detto antonio vieni entra a casa mia parliamo del signore e cominciai a parlare e lui cominciava a parlare del signore la cosa per noi avevo mi fumavo tre pacchetti di malboro al giorno soltanto quella mattina quando mi alzavo partivano dieci dieci sigarette tanto che ero nervoso però questo fratello non mi disse butta le sigarette tu a casa mia no avevo le sigarette in tasca rispettavo casa sua e avevo le sigarette però arrivando la sera fratello e sorelle il diavolo antonio ti devi andare in chiesa guarda la tua bocca com'è puzza guarda le tue mani sono gialle che vai a fare in chiesa se tu ti metti vicino a qualcuno quando apri la lei bocca quella persona si allontanerà da te perché puzza di dicotina e quando alzerai le mani vedrai le mani gialle si allontanerà allora in quel momento detto giuseppe mi dispiace non voglio venire cosa non vuoi venire cosa ha detto il signore oggi fratello e sorelle mi sono trovato per il martello in incudine mi è caduta una disperazione molto profonda in quel momento non sapevo cosa farla mia mente era una palla di fuoco una palla di fumo non sapevo più dove stavo e ho detto va bene vengo alla chiesa però mi metto all'ultimo posto in piedi però nessuno mi deve dire siediti gli ho detto va bene vieni vieni allora io mi sono messo all'ultimo posto vicino al muro così allora per me è la prima volta che andavo in chiesa e vedevo quelli che cantavano sai però c'è un cantico che mi ha toccato la ha fatto un cambiamento nella mia vita quel canto che dice grande sei tu mio signore in quel momento ho sentito un fuoco nella mia vita e io stavo e volevo resistere però sì le mani puoi resistere i piedi ma quando ti escono le lacrime tu non le puoi mantenere e cominciai a uscire le lacrime e io stringevo gli occhi la presenza di dio era forte qualcosa di forte il diavolo mai 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 detto che era un che mi amava il diavolo sa che voleva la mia morte io ho visto amici che si sono uccisi nella vasca da bagno per un vertuosi incidenti di macchina incidenti di moto stanno quelli che si sono appesi ma il signore aveva un compito per me e quel cantico grande sei tu e io mi stavo la e cominciai a piangere a piangere a piangere immediatamente mi ero dimenticato che avevo le mani sporche e cominciai a alzare le mani al cielo e cominciai a aprire la bocca mi ero dimenticato che la mia bocca puzzava e cominciai a piangere come un bambino gloria al nome del signore che lui ha fatto un cambiamento nella mia vita fratelli e sorelle il pastore quando ha fatto l'annuncio sono andato davanti e ho pianto avevo ancora le sigarette il pastore non mi ha detto di buttare sigarette però quando ancora il diavolo quando finisce il culto viene un amico mi dice antonio mi dai una sigaretta si tieni la sigaretta anzi se vuoi ti faccio compagnia fratelli e sorelle dio se tu hai una chiamata ti perseguiterà fin quando ritorna a lui alleluia non puoi scappare nella mano del signore allora lui fumava la sigaretta usciva il fumo immediatamente accese la sigaretta a me mi usciva acqua fratelli e sorelle acqua momento che stavo tirando la mia bocca era piena di acqua alleluia pieno di acqua non so come fa il signore perché non avevo il rubinetto nella sigaretta però usciva acqua spegni la sigaretta acceso un'altra tirai e ancora e lo spirito di dio mi dice basta prendi le sigarette e buttare immediatamente presi i pacchetti cioè avevo un aperto uno chiuso e un altro in tasca prese le sigaretta e le stampai nelle mani fratelli e sorelle il 11 ottobre del 1984 sono stato battezzato e lo spirito santo e il 18 ottobre del 1900 novembre 1900 novembre novembre del 1984 sono stato battezzato in in acqua tre mesi dopo sono andato in venezuela a predicare il vangelo fratelli e sorelle la parola di dio dice basta una parola a me il signore ieri sera c'è stata un'unzione qua dentro non eravamo molti come questa sera gloria però il signore una sola parola convertito un solo uomo che sta in mezzo a noi grazie fratelli e sorelle gesù non è una religione amén gesù è qualcosa di vero reale bisogna toccarlo perché se tu non lo tocchi tu puoi venire in chiesa per perdere il tempo ma tu te la andrai vuoto qualcosa di solido la mia vita era finita mia mamma mi disse spero che qualcuno ti uccide è impossibile di sopportarti spero che qualcuno ti ammazza ti toglie la vita grazie però gesù mi ha dato la vita a me il signore gesù ha fatto un cambiamento nella mia vita fratelli e sorelle io non come ha detto il fratello lui non ragionava ma io nel mondo ero una capra ero testardo facevo le cose che mi piaceva nemmeno mio padre mi poteva controllare facevo così a destra a sinistra però quando il signore cambia cambia mi arrivavano 50 60 libra alla settimana soltanto di magia di spiritismo io li ho presi amén atti 19 19 ho messo la benzina sopra e ho bruciato tutto e l'ha accettato la finale ho visto la gloria di dio amén il signore mi ha cambiato completamente e adesso predico il vangelo come ha detto il fratello la verità la verità mi affrancherà perché il diavolo non ti ama il diavolo non mi ha detto mai io ti amo quando stavo in ginocchio gesù mi ha detto la prima volta io ti amo io non sapevo che cos'era amare la mia vita era distrutta mio padre mi manda mi mandava verbalmente delle parole mia mamma pure perché ero diventato una perle come dire una pecora nera però dentro di me soffrivo non volevo fare quello che volevo fare però quando mi trovavo agli altri per me l'occulto era il primo però il signore cambia tu puoi avere qualsiasi problema questa sera gesù cambia gesù è reale non c'è problema che il signore non possa risolvere tutto tutto però dipende da te gesù ha detto la porta ha preso una moneta di chi è questa faccia di Cesare dai a Cesare quello che di Cesare e dai a Dio quello che di Dio allora io ho pagato ho detto signore io vengo a te io voglio dare la mia vita a te e là piano piano ho cominciato a sentire il primo amore ho cominciato a avere fame del signore e piano piano normalmente quando c'è il pastore faceva l'insegnamento biblico sempre io alzavo la mano fratello calma fratello io ho fame della parola e sono arrivato qua e vi posso dire io ho sei figli sei figli con una sola donna perché molti possono pensare quando mi vedono ma con due donne no una una quando vanno in Francia mi dicono ma sei figli ma con due donne no con una perché in Francia si divorziano e hanno tre figli da una parte e tre figli dall'altra oggi è la moda e mi posso dire che il signore mi ha benedetto sei figli per questo normalmente vi dico da parte del signore grazie che ho conosciuto i fratelli che stanno qui presente grazie Agostino Agostino l'ho conosciuto tramite facebook sono andato per caso per caso ho aperto il computer ci siamo messi a parlare e lo spirito di Dio subito ci ha fatto incontrare fratelli e sorelle se io voglio essere grande ve lo dico stasera davanti al signore se io voglio essere grande davanti a loro io devo lavare i piedi a loro io voglio essere il più piccolo perché io non mi voglio essere grande voglio essere grande voglio lavare i piedi a tutti quanti voglio essere umile perché prima non ero umile mi voglio umiliare davanti a lui è là che il signore si manifesta non è che una persona ha un'etichetta il fratelli Dio non ha messo un'etichetta Dio dal cielo guarda la chiesa come le stelle non guarda la dominazione di quale chiesa sei quando Gesù ritornerà prenderà la sua chiesa una chiesa allora fratelli e sorelle lavoriamo insieme senza scoraggiarci perché dove c'è l'unione c'è la forza e c'è l'amore che il signore vi benedica se vi permettete voglio fare una piccola preghiera amm 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 nell'inferno a trovarmi, anche nell'inferno sei venuto a trovarmi, quando nella mia vita non c'era più niente da fare, quando nella mia vita signore era finita, ma tu sei venuto nell'inferno a cercarmi, signore tu mi hai visto non i miei peccati, ma la mia persona, non hai fatto niente signore, non hai guardato signore la mia miserabile, quello che ho fatto, ma sei venuto a me signore, ma hai preso per la mano, ma hai tirato fuori, ma hai dato un vestito, quando io non meritavo tutto questo signore, io non meritavo tutto questo, però il tuo grande amore signore, ma hai cambiato, signore se c'è qualcuno in mezzo qua, che non ha fatto esperienze, posso signore toccare il cuore, tocca il cuore signore, che tu possa cambiare nel nome di Gesù tutte quelle persone, signore il fratello ha parlato signore, che era un malvagio con la moglie, signore nel nome di Gesù tu cambi, perché sei reale, tu sei reale signore, e questa sera signore voglio dire, cambi ancora di più, come il filo di acqua un cuore nuovo, una vita nuova signore, ma festa la tua potenza signore, fammi solo assomigliare a te signore, trasformaci padre, facci crescere l'amore, nell'unità, sono stato perseguitato, per ogni cosa signore, però so signore che tu mi hai dato la vittoria, ancora oggi, grazie signore per questi fratelli, che possono predicare il Vangelo, con sincerità, con verità, e non si possono avergognare, signore quelle che tu hai fatto, nel nome di Gesù, grazie signore, grazie signore per Agostino, grazie signore per Agostino, grazie per questi fratelli che hanno accettato il signore, signore grazie per questa tenda, benedici signore alla città di Liguria, per questi fratelli, ogni chiesa, tu le possa benedire, nel nome di Gesù, spezza ogni legame, che il diavolo vuole distruggere la chiesa, nel nome di Gesù, facci un fuoco di mente, un fuoco signore davanti a te, signore spezza ogni cosa, facci essere bollenti signore, come è stato il signore Mosè, come è stato Gesù, grazie a questi uomini, la parola è arrivata a Copinarezzo, e noi vogliamo portarla fino alla fine, questa parola, signore dacci grazie, signore grazie, che tu possa benedire ogni famiglia che sta qua presente, signore benedice la mia famiglia che sta in Francia, i miei figli, che tu li possa proteggere, ogni matrimonio signore, grazie signore, grazie per tutti i ministri signore e per tutta la chiesa, nel nome di Gesù.